6 giugno 2023 all'anarchico Alfredo Cospito, detenuto in regime 41 bis nel carcere di Opera a Milano, è volato in Sardegna, dirigendosi poi al penitenziario Bancali, a Sassari, dove si trovava prima del trasferimento. Cospito era stato portato nel carcere milanese per motivi di salute in seguito allo sciopero della fame intrapreso il 20 ottobre e interrotto il 19 aprile. Il carcere di Opera, infatti, dispone di un reparto per il ricovero dei detenuti malati che manca nel penitenziario sardo. L'anarchico, al termine dello sciopero della fame, aveva espresso la volontà di tornare nel carcere di Bancali. Il suo desiderio, una volta accertate le condizioni di salute idonee, è stato esaudito, con la conferma ufficiale del DAP.